Allora ragazzi, ben ritrovati a tutti voi, benvenuti al Bar del Calcio, io sono Manuel, il vostro rompiscatole seriale, il vostro rompiscatole proprio giornaliero, quattro video al giorno, ve lo ricordo, lo dico soprattutto per i nuovi arrivati, ben arrivati, mettete subito un bel mi piace a questo video, partiamo subito col mio spottino. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro Fuggire per rinascere, come acquistarlo? Facile, la via principale è farlo tramite il sito che mi ha permesso di pubblicarlo, you can print, andate sul sito you can print, sulla barra di ricerca andate a scrivere Fuggire per rinascere e automaticamente vi porta lì per l'acquisto. Oppure in alternativa lo trovate sulle principali librerie, Feltrinelli, Mondatori, oppure il 90% delle librerie d'Italia distribuisce il mio libro, andate lì, lo ordinate nel giro di 4-5 giorni di arriva. In alternativa, per essere messi a conoscenza proprio nel dettaglio di tutti i canali di distribuzione del mio libro, andate su Google, digitate Fuggire per rinascere di Manno e il Manconi e vi esce tutta una sfilza di modalità di acquisto del mio libro. Io ringrazio anticipatamente chi mi dà fiducia e chi decide di acquistarlo, ma la cosa che più mi sta a cuore è quella di mandarmi poi una vostra recensione, perché come sapete ci tengo moltissimo. Ciao! Proiettiamoci subito nel nostro fantacalcio. Mettete un bel vi piace, mettetevi comodi, prendetevi una birretta, un bicchiere d'acqua, una lemon soda, una limonata, un cappuccino, un caffè, quello che vi pare, un ginsenghino, quello che vi pare, comodi, nel nostro luogo virtuale. Andiamo a vedere cosa è accaduto nella nostra lega di fantacalcio, sperando di aver preso qualche punto. Vai! Ebbene ragazzi, andiamo quindi a dare prima di tutto un'occhiata alla classifica che vede in testa, dallo scorsa settimana ribaltato, scavalcato Ovetto di Pasqua, è andata in testa con 177 punti. Eagles 1900, al secondo posto appunto Ovetto di Pasqua con 173 punti, a 167 al terzo posto New Team, quarto posto per AC Parma con 166 punti, quinto posto per Team Massimo con 159 punti, sesto posto per Tifosetta Ardita con 155 punti, al settimo posto arriva lo squadrone con 148 punti, all'ottavo e al nono posto abbiamo la coppia composta da SL Cris e Palermo, al decimo e l'undicesimo posto, una ulteriore coppia composta da Xiaset e Dinamo, l'OSCA e poi tutte le altre posizioni con appunto, eccomi qua, collocato a 122 punti al sedicesimo posto, una leggera discesa con le squadre dietro che premono, guardate un pochino ragazzi, ho tre squadre ad appena tre punti da me, mentre qui si è venuto a creare un piccolo sorco di 10 punti che mi auguro. in questa giornata di essere riuscito appunto in qualche modo a colmare, andiamo quindi a vedere cosa posso aver combinato con la mia squadra, un attimo solo, eccola qui, andiamo a vedere trentesima giornata, Sommer non ha giocato, Gatti non ha giocato come possiamo vedere, Angelino ottimo il 6 e mezzo, 5 e mezzo Birachi e Bono, il 5 di Politano pesa, abbiamo il 6 di Zaccagna e di Pulisic, Gendosi 6 e mezzo più uno fa 7 e mezzo perché ha fatto l'assist per il gol di Matusic contro la Juventus, in attacco Lautaro Martinez 6, Osimen e Retechi 5, che tradotto vuol dire che pure stasettimana mi attacco, quindi entra il portiere con un difensore, guardate un pochino Marusic in panchina, vabbè ragazzi col senno di poi, ma che vogliamo fare? Allora portiere, ho quantomeno un buon segno, no no fermi, fermi, mi ha detto bene, fermi un attimo, Audero 6 più 7, il primo cambio della difesa è proprio Marusic, attenzione ragazzi, e in una domenica dove hanno segnato poco gli attaccanti, magari grazie proprio alla panchina, c'è il rischio ragazzi miei che vado a fare punti, volesse Dio che ci ha avuto una botta di fortuna, andiamo a calcolare la giornata, torniamo indietro, andiamo al calendario, andiamo un pochino a vedere cosa è successo in questa trentesima giornata, FC Root 66, 25 punti, 20 punti per la coppia composta da Athletic Art Attack ed FC Mambo, 17 punti per FC Cinghiali, 16 punti per il tavolino, attenzione perché Tifosetta Ardita e XA Seded sono i primi, 15 e 14 punti rispettivamente i primi a prendere punti della top 10, quindi attenzione a Tifosetta Ardita che sale parecchio, Maina Gioia 14 punti, Lino Banfield 12 punti, 11 punti per FC Blackpool, 10 punti per il terzetto composto da Borussia Portmund, Dino Molosca e Pro Pro Secco, poi abbiamo 7 punti per la coppia composta da Tettenham e Atlantic FC, 5 punti per Neverjoy e Buchi Neri, 3 punti per Accidenti e Realcolizzati, 1 punto per FC Porcellona, 86 e mezzo e io, anche stavolta, 0 punti, 86 e mezzo, tanti della top 10 non sono andati a punti, ma io ragazzi 72 punti sono andato malissimo, mi sa che da sedicesimo grollo ancora di più, ragazzi, andiamo a vedere la classifica. Eagles, 1900, rimane al comando comunque con 177 punti, 173 punti per Ovetto di Pasqua, ma la grande notizia di questa giornata vede protagonista assoluta, Tifosetta Ardita, che, ve l'avevo detto, ha preso punti importanti, 170 punti e balza prepotentemente non solo sul podio, ma è anche in lotta per il titolo, perché 7 punti con questa formula non sono nulla. Al quarto posto con 167 punti New Team, quinto posto AC Parma, 166 punti, sesto posto Team Massimo, 159 punti, settimo posto Perx Aseded, 151 punti, ottavo posto FC Mainagioia, 149 punti, arriva lo squadrone, 148 punti, vado ad occupare il nono posto, Dina Molosca entra nella top 10, ragazzi, con i suoi 147 punti, poi abbiamo undicesimo posto per ASL Cris, con 144 punti che esce dalla top 10, dodicesimo posto per Palermo, con 144 punti anch'esso, 13 punti per Accidenti, scusate, tredicesima posizione per Accidenti, con 135 punti, poi abbiamo 134 punti, quattordicesimo e quindicesimo posto, Sporting Seven e Gambio Rosso United, io resisto, grazie al cielo, in sedicesima posizione, ma guardate qua, ragazzi, tre punti, siamo in cinque squadre, ragazzi, tosta, mi sento proprio braccato, diciassettesimo posto per Accipicchia, con 121 punti, Fabio Decimo Meridio, diciottesimo, con 121 punti, diciannovesimo Borussia Portmund e ventesimo, atletico, ma non troppo, con 119 punti, sto purtroppo perdendo in maniera importante contatto da quello che è il mio obiettivo stagionale, che è la top 10, come possiamo vedere, 122 contro 147, ragazzi miei, purtroppo i punti cominciano a diventare parecchi, 25 punti di distacco, sono tanti, 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 è una stagione, ahimè, purtroppo, che sta prendendo una brutta piega. Nel lasciarvi con la schermata delle prime posizioni della classifica della nostra adorata Bar League, vi invito a mettere un mi piace, ma soprattutto nei commenti scrivete come è andata la vostra squadra. Un saluto a tutti voi da Manuel e viva il Fanta Calcio!